A sostegno del territorio, come partner di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, c'è anche Riviera Banca, pronta a sostenere in quest'anno da capitale realtà, eventi ed iniziative. Riviera Banca sostiene Pesaro Capitale della Cultura 2024 perché opera con tre importanti filiali in città. È una banca differente e come credito cooperativo unisce alla tradizionale attività bancaria un'intensa attività extra bancaria dedicata alla concreta vicinanza alla comunità e restituendo al territorio ciò che dal territorio ottiene. Sostenendo Pesaro, città della cultura 2024, ne sosteniamo anche le sue iniziative. La cultura oggi diventa una modalità di approccio sociale con le persone, nei luoghi, con l'ambiente, con la società in genere. Ad esempio, fare cultura nel nostro territorio significa connetterlo alla storia, alla tradizione, alla musica, all'arte, all'artigianato, alla tipicità. Significa dare rilevanza alla bellezza, all'enogastronomia, alle eccellenze produttive, ai servizi, all'accoglienza, valorizzando le nostre radici e camminando verso il futuro con la tecnologia, coinvolgendo i giovani. Questo è ciò di cui il settore turistico, da noi così importante, deve concretamente tenere conto per raccontare un valore d'insieme tra costa e dentro terra. La cultura è dunque fortemente legata all'economia e comprende l'inclusione, la sostenibilità, la qualità dell'ambiente, che devono caratterizzare tutte le iniziative messe in campo. La natura della cultura, tema di Pesaro 2024, racchiude questi valori ai quali Riviera Banca attribuisce molta importanza. Sosteniamo questo bellissimo progetto perché come vera banca locale ci identifichiamo in tutto ciò. Riviera Banca inoltre per l'anno di Pesaro 2024 ha strutturato dei veri e propri comitati territoriali, alla fine di sostenere al meglio l'anno da capitale nel pesarese, come ci racconta il presidente di Riviera Banca, Fausto Caldari. Per essere vicino al territorio, come nel caso di Pesaro, capitale della cultura, e alle sue iniziative, Riviera Banca ha creato tre comitati territoriali soci. A loro è assegnato il ruolo di valutare le richieste di sostegno e di migliorare le relazioni dell'istituto con la comunità. Eroghiamo contributi ad ospedali, enti benefici e cooperative che si prendono cura della persona, ad associazioni dedicate allo sport e alla formazione di giovani, al restauro di nuclei storici e alla valorizzazione di vecchi borghi. Sosteniamo iniziative che preservano la memoria dei luoghi, parrocchie, circoli, comitati di quartiere, che conoscono le specifiche esigenze della comunità, delle realtà vicine ai giovani, adenti del terzo settore, che promuovono iniziative in favore della gente, del territorio, del bene comune. Credo che la natura della cultura, e con esse il progetto di Pesaro Capitale, contribuisca a valorizzare il nostro territorio, rendendo merito all'impegno della gente, alla capacità di migliorare il modo di stare assieme. Stare assieme è infatti sinonimo di cooperazione, principio fondante per il quale è nato ed opera il nostro istituto di credito. La promozione della cultura, oltre a favorire il territorio, crea nuove possibilità di sviluppo economico e opportunità di lavoro, nonché, aspetto fondamentale, un rinnovato e importante impatto sociale.